Maria Guerriero si gira un nuovo film ad Ischia Resilienzia, spieghiamolo allora di che cosa si tratta. Allora Resilienzia è un film contro il femminicidio, è un progetto sociale oltre che un film in parte d'amore ma soprattutto un film che vuole lasciare un messaggio, un messaggio importante su una tematica purtroppo oggi molto diffusa, oggi ma come anche nel passato, quindi noi con questo film non solo stiamo facendo appunto un progetto cinematografico ma un messaggio sociale che è la cosa per me in questo momento più importante. Ecco raccontiamo un po' per quello che si può dire, non i dettagli del film ma comunque gli attori principali che stanno intervenendo, anche attori importanti e conosciuti. Sì, in questo film vediamo il protagonista che è Luca Capuano, poi ci sono io che interpreto la protagonista, la coprotagonista che nel film è Tania e Claudia Conte, poi c'è Giovanni De Filippis come coprotagonista, abbiamo la partecipazione straordinaria di Antonio Catania e Luciana De Falco per la regia di Antonio Centomani. Ecco, ti chiedo come nasce un po' l'idea comunque di realizzare un film su un tema tra l'altro molto attuale e poi perché Ischia e perché questa location del Sorriso che vi sta ospitando? Allora io amo tanto e sempre nei miei progetti dare sempre un messaggio importante, nei vari miei progetti ho sempre cercato di dare morali o messaggi e appunto perché in questi ultimi tempi il femminicidio è un argomento trattatissimo ma non trattato a caso, trattato perché purtroppo all'ordine del giorno è troppo e allora ho voluto anche io appunto dare un mio messaggio, un mio contributo e quindi ho scelto di trattare proprio questa tematica. Ho scelto Ischia perché, a parte che è bellissima, Ischia ha dei posti fantastici già normalmente, poi cinematograficamente vanta ancora di più le scene, quelle che possono essere appunto le location di un film e quindi ho scelto questo posto che conosco benissimo perché io ci vivo praticamente ad Ischia, fra poco avrò le chiavi della città perché sto sempre qui e quindi sono questi i motivi principali per Ischia. Poi la gente qui è di un'ospitalità fantastica però principalmente perché è bellissima. Ecco Maria, dove troveremo il film? Quando? Un po' i tempi anche di fine appunto set, dato che siamo venuti proprio a disturbarvi sul set. Sì, allora il film finirà di girare il 9 febbraio, noi siamo già in contemporanea con il montaggio quindi noi stiamo girando e montando in contemporanea il film, appunto le riprese finiscono il 9 e noi a breve dopo questo termine di riprese diciamo siamo già in pre per un qualcosa però non spieghiamo troppo perché anche per scaramanzia soprattutto perché Claudia Conte ci tiene alle scaramanzie non so se è vestita di viola, ha un po' di viola sì, se ne è appena accorta comunque no. Non vi dico ancora nulla ma proprio per scaramanzia per questa cosa però ci siamo quasi, ci siamo quasi non solo per l'uscita al cinema, è un qualcosina che noi vogliamo fare un po' differente con questo progetto.